Un auspicio. Manca una settimana alla presentazione delle liste e visto che si sono registrate tante evoluzioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, ne compie un'altra, rifletta sull'unità del centrodestra. La speranza è quella della senatrice Adriana Polibortone che in Fratelli d'Italia, sottolinea, si riconosce e vuole continuare a farlo. Ma il messaggio è rivolto anche ai dissidenti di Forza Italia che, fa notare l'ex sindaco di Lecce, non hanno nessun interesse alla frattura nel centrodestra. Appello all'unità rivolto ieri da Bari dove la Polibortone ha ufficializzato in conferenza stampa la sua candidatura alla presidenza della regione Puglia in vestitura, come è noto, disapprovata da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che invece segue l'originario candidato del centrodestra, l'oncologo Schittulli, passato nella squadra dei Fittiani. Una scelta inspiegabile, commenta la senatrice Polibortone, sia perché la scelta di Schittulli serviva proprio a rendere unito il centrodestra, sia perché in altre regioni Fratelli d'Italia è alleata con Forza Italia o converge su un candidato azzurro. In attesa di risposta al suo appello, colei che fu illustre esponente del Movimento Sociale Italiano, si dice soddisfatta dell'incontro di ieri, al quale erano presenti esponenti del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana e del Partito Liberale. La senatrice leccese sarà sostenuta anche dalla lista Noi con Salvini e pare che qualche movimento nel nuovo centrodestra faccia presagire rotture nel partito di Alfano con Schittulli. La Poli dunque non rinuncia a servire l'assist in zona Cesarini affitto. Se si diffondesse un comunicato mio e di fitto, a conferma della nostra unione, suggerisce l'ex sindaco di Lecce, il centrodestra darebbe un segnale convincente ai propri elettori. Il centrodestra ha bisogno di uno psicologo. Ha sicuramente uno sdoppiamento di personalità. Le due fazioni che si fronteggiano dicono di essere tutte e due quello vero. Forse hanno tutte e due ragione, ma vanno verso la sconfitta certa. Lo ammette lo stesso Vitali che al TG.com spiega. Un centrodestra con due candidati in campo difficilmente può vincere, ma è chiaro che se la situazione resta questa e fitto presenterà le liste, si metterà automaticamente fuori dal partito. Insomma, nulla di nuovo. Continuano le minacce dei berlusconiani ai fittiani e lo scontro è sempre più vicino, anche se Vitali spiega che c'è la possibilità di ricompattarsi, ma solo se gli altri accetteranno la candidatura alla presidenza di Edra Napoli Bortone. Una cosa improbabile, molto più facile che si arrivi allo scontro anche giudiziario, visto che una volta presentate le liste ai fittiani sarebbero da considerarsi fuori da Forza Italia, secondo il pensiero dei berlusconiani. Questo significherà guerra giudiziaria per il simbolo. Intanto l'ex sindaca ha presentato la sua candidatura alla regione Puglia. Bari, il centrodestra, sono io, ha detto fortemente la senatrice. Schittulli si ritiri e battiamo Emiliano. La mia candidatura è fortemente voluta alla base. Un appello all'unità che l'oncologo non ha preso per niente bene. Schittulli ha lanciato il suo affondo alla sua ex sostenitrice su Facebook. Polifinzione. Adriana Polibortone tra qualche minuto annuncerà ancora una volta la sua candidatura alla presidenza della regione Puglia e con Forza Italia e con la Lega Nord. Cinque anni fa a sostenerla erano anche Udc e Io Sud, spiega l'oncologo. Con un certo sarcasmo, poco più di un mese fa, quando io annunciai la mia, lei era al mio fianco e dal palco dello Showville mi dedicò una calorosa e commossa presentazione. Alla fine Paolo Foresio ha ceduto. Si candiderà nelle liste del PD, gli toccherà rischiare di non essere eletto. Quest'anno, nonostante Michele Emiliano con un centrodestra a pezzi sia favoritissimo, i posti per i democratici salentini sono due o tre secondo i sondaggi, troppo pochi per dare spazio a tutti i nomi di spicco. Ci sono gli uscenti, quali supportati dalla segreteria leccese come Abaterusso e New Entry come Ada Fiore. Insomma, potrebbe esserci una grande sorpresa. E non è come alle politiche, dove tutto è scontato e tutto si decide a Roma. Molti di quelli che sono seduti su quelle poltrone oggi devono accendere un però la Madonna è sperare che Renzi duri il più tempo possibile. Alle regionali invece ci sono i veri e propri colpi di scena e restare fuori dopo aver investito molte risorse per la campagna elettorale può fare del male. Oggi Foresio si presenterà al Tiziano con De Caro, il sindaco di Bari, Renziano anche lui. Ci sarà il rischio di imbattersi nella solita conferenza stampa elettorale tronfia di retorica sul perché della candidatura al servizio del partito seguita dal tipico comunicato stampa altrettanto retorico. quelle tipiche sviolinate che fanno apparire il candidato di turno, il messia che si sacrifica per tutti noi, ma che fanno sorridere gli addetti ai lavori un po' più disillusi. Scene già viste. La verità è che non ci sarebbe nulla di male a dire che oltre alle idee chi fa politica ha voglia di farsi spazio, di emergere e ha ambizioni. Foresio ha voglia di fare strada dopo due giri fermo in Consiglio Comunale, appuntato sul cavallo giusto, quello di Renzi. Dopo l'embargo francese avallato dall'Unione europea e dopo il divieto algerino, anche il Marocco, preoccupato per la diffusione del batterio della xylella fastidiosa, ha deciso di bloccare l'importazione di piante d'olivo dall'Italia. La notizia è stata diffusa da alcune testate online del paese nordafricano e sottolineano che le autorità italiane stanno combattendo con misure drastiche quali abbattimento delle piante malate il batterio della xylella fastidiosa. Sino ad oggi va detto però che in Marocco non è stato segnalato alcun caso di ulivi affetti dal batterio. Il provvedimento di sospensione dell'importazione dall'Italia riguarda oltre gli ulivi anche altre piante come agrumi, viti, oleandri, querce e roseti. La lista nera delle colture potenzialmente ospiti del patogeno ammontano ad oltre 100, le stesse bloccate pure da Parigi che tuttavia la settimana scorsa si è ritrovata in casa nel mercato all'ingrosso di Rangis, una pianta di caffè infetta giunta dal Sud America attraverso l'Olanda. Quella di Rabat è la terza ordinanza di chiusura delle frontiere nei confronti dei prodotti pugliesi. Il timore è che presto possano aggiungersi Spagna, Grecia e Portogallo. Intanto il 27-28 aprile il Comitato Permanente Europeo per la Salute delle Piante dovrà decidere se le azioni previste nel piano del commissario straordinario Giuseppe Silletti dovranno essere inasprite oppure no. Poi entro fine mese dovrà pronunciarsi anche il Parlamento Europeo. E mentre anche all'estero si penalizza l'olivicoltura salentina, il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, si compiace dell'iniziativa del Comitato Una Voce per l'Ulivo che ha proposto l'istituzione di un parco sperimentale, il più grande del mondo, a disposizione della scienza per testare la tolleranza di tutte le varietà di ulivo alla xylella fastidiosa. Finalmente la comunità salentina reagisce in modo positivo a questa calamità, dice il Governatore di Puglia. E questa è la strada giusta e la Regione troverà il modo per realizzare il Gezzemani del Salento, con il supporto della scienza e delle altre istituzioni che vorranno adottare quest'idea e farla crescere insieme alla speranza che, stando uniti, si può vincere questa guerra contro la xylella fastidiosa. L'assistenza sanitaria nell'ASL di Lecce è al collasso. In una lettera aperta inviata alla direzione dell'ASL e all'assessore regionale Pentassuglia, Silvio Cataldi, segretario della CGL Funzione Pubblica, denuncia l'eccessivo carico di lavoro che grava sul personale medico e infermieristico degli ospedali dell'ASL Leccese, causato dalla gravissima carenza di personale di supporto e ausiliario, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari. Cataldi denuncia la scarsa sensibilità dimostrata dai manager che si sono succeduti in questi anni, che hanno portato in molti casi a carenze organizzative, a tal punto da obbligare spesso il personale a rinunciare alle ferie e a situazioni medico-legali, dipendenti invece da una precarietà organizzativa di reparto. Il segretario CGL richiama l'attenzione sui numerosissimi ricoveri di pazienti extralocati, soprattutto nei reparti di geriatria, medicina e pneumologia. Ad esempio negli ospedali di Casarano e Copertino i pazienti extralocati risultano essere stati circa 300. Una situazione analoga a molti altri ospedali, primo fra tutti il Vito Fazzi di Lecce, dove ogni giorno si assiste a situazioni di emergenza. Cataldi sottolinea che l'extralocazione dei pazienti scaturisce più che altro da una carenza organizzativa, ma anche strutturale di posti letto, per cui sarebbe opportuno che il management si facesse carico una volta per tutte di affrontare tale situazione, convocando un apposito tavolo di confronto, come peraltro già richiesto. Lo scarso personale in servizio, lamenta Cataldi, è costretto a svolgere spesso attività non inerenti alla qualifica rivestita e questo influenza negativamente la qualità delle prestazioni erogate, aumentando tra l'altro il rischio clinico per il personale e possibili risvolti medico-legali. Per il sindacalista della CGL non è più rinviabile una puntuale verifica in tutte le strutture sanitarie esistenti sul territorio, strutture che secondo un censimento fatto dalla stessa direzione aziendale sarebbero circa 150. Da anni, lamenta il segretario CGL, è un susseguirsi di impegni e buoni propositi annunciati dalle direzioni generali di turno, ma che da soli non bastano a superare le criticità. In conclusione, Cataldi mette a disposizione dell'ASL l'organizzazione sindacale per razionalizzare le risorse umane, chiedendo al direttore generale Gorgoni, interventi mirati a risolvere in modo definitivo le questioni esposte. La donna che divorzia non sempre deve essere sostentata. L'eccezione alla regola è stata affermata dalla Corte d'Appello di Lecce che il mese scorso ha assolto un uomo querelato dalla ex moglie per non averle fornito i mezzi di sussistenza. L'uomo, un 63enne di Gallipoli, era caduto in uno stato di indigenza così da dover sospendere l'erogazione dell'assegno di mantenimento, poi ripresa, e da chiedere aiuto economico al figlio e alla stessa donna. Il figlio li prestò 5.000 euro, invece la donna non soddisfò la richiesta e anzi lo querelò quando questi chiese la restituzione del 50% del valore dell'immobile sito a Gallipoli nel quale lei risiedeva. Appartamento comprato con i soldi del 63enne, il quale è costretto a vivere in un'abitazione di circa 50 metri quadri messi a disposizione dal comune di Melso, provincia di Milano, a cui paga l'affitto. La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal giudice Torriello dando ragione all'uomo. Questa sentenza, destinata a fare giurisprudenza, contraddice la tendenza a perseguire penalmente solo il marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare e conferma il regime di parità fra i coniugi, entrambi quindi obbligati alla solidarietà. Come fa notare il difensore dell'imputato, l'avvocato Guido Bonparola del Foro di Milano. Finalmente una sentenza saggia destinata a fare giurisprudenza. La Corte d'Appello inoltre ha condannato la donna a pagare le spese sostenute dall'imputato. L'avvocato Bonparola ha confutato la sioma, secondo cui se la moglie denuncia il marito per violazione degli obblighi di contribuzione, allora il reato deve necessariamente sussistere. Non è sempre così come ha dimostrato questa sentenza. Non solo la Corte d'Appello ha assolto il mio assistito, ma ha addirittura condannato la moglie alla refusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. Questo è un messaggio estremamente chiaro, cioè le denunce si fanno se vi sono delle valide motivazioni. Un ragazzo con la voglia di comunicare e di tirar fuori qualcosa attraverso i suoi scritti e la sua musica. Si tratta di Simone Perrone, cantante, musicista, poeta e scrittore, un artista salentino a 365 gradi. Nato nel 1987 a San Pietro Vernotico, si è laureato in lingua e letteratura euro-mediterranea, ma da quando aveva 15 anni la sua passione è sempre stata la musica. È iniziata a quell'età a studiare canto e da quel momento non ha più smesso. Suona la chitarra e il pianoforte. Simone, oltre ad essere frontman dell'elettro-rock band salentina Jack in the Head, con la quale ha vinto nel 2011 l'Heinicking Gaming Festival, ha aperto i concerti di Zucchero, Elio e le Storetese, Cristicchi e Povia. Nel 2014 ha partecipato al programma televisivo The Voice nel team di Piero Pelù, con il quale è arrivato fino alla terza fase della gara. Simone, oltre a scrivere musica, ha pubblicato di recente il suo primo romanzo, edito da Lupe Di Tore, dal titolo Spremuta d'arancia a mezzogiorno. Chi è Simone Perrone? Parlami di te e di come hai iniziato a fare musica. Simone Perrone è un artista, credo. Ho iniziato a fare musica a 12-13 anni, ho scritto le mie prime canzoni verso i 14 anni, poi ho fatto le mie esperienze. Nel 2007 ho vinto il Cornetto Free Music Festival, ho aperto i concerti di Zucchero, Fornaciari, a Milano, all'Arena Civica. Poi ho aperto altri concerti, ho continuato a fare esperienze, ho fatto l'autore per altri cantanti, fino ad arrivare qui. Ho scritto il mio primo libro. Il libro è la biografia romanzata di un personaggio che ho inventato, si chiama Carlo Barrassi, è un musicista anche lui, e attraverso gli aneddoti della sua vita, le esperienze raccontate nel libro, si sofferma a riflettere sui rapporti interpersonali con la gente che incontra lungo il suo percorso e cerca una sorta di posto nel mondo che poi alla fine non trova perché ha un finale aperto. Simone, tu hai partecipato anche ad un programma televisivo a The Voice. Mi racconti la tua esperienza? Sì, è stata un'esperienza ovviamente bellissima ed emozionante. Io in realtà ho fatto tanti palchi importanti, però quando mi sono trovato lì, sul palco della Blind, che sarebbe il primo provino, quello dove ci sono i giudici girati, è stata veramente un'emozione che forse mai avevo provato nella mia vita. Ti ringrazio Simone di essere stato qui e andate tutti a comprare Spremuta d'arancia a mezzogiorno. Grazie a voi. Una grigliata per cementare la squadra. Non è la prima riunione intorno all'arrosto, quella preparata a pranzo per i giocatori del Lecce. Tavolata per affiatarsi ancora di più in vista della trasferta di Martina Franca. Partita che è un altro tassello indispensabile per conquistare la zona playoff. I martinesi recupereranno domani la sfida con la Casertana. Vincere significherebbe la permanenza in Lega Pro tre turni prima della fine del torneo. Martina Franca Lecce si giocherà sabato alle 17.30 arbitro il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Giacchetta nera che ha arbitrato la sfida a Benevento Lecce e vinta da Salentini per 2 a 1. In trasferta i giallorossi hanno vinto solo a Diversa, a Pagani e a Salerno oltre che a Benevento. A Martina Franca è vietato perdere anche per riscattare la figuraccia dell'andata quando i Salentini furono castigati dal gol partita di Carretta, un gallipolino. Questa mattina gli uomini di Mister Bollini si sono allenati al Via del Mare. A riposo il centrocampista Salvi e l'attaccante Manconi, a parte hanno lavorato il portiere Caglioni, il difensore Abruzzese, i centrocampisti Bogliasino e Mannini e la punta Embalo. Sabato sarà a disposizione il difensore Kevin Vineto che ha scontato un turno di squalifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.